Prova, vieni alla Texnova, qui c'è tanta roba, bella da comprare. Prezzi troppo pesanti? Non disperare, alla Texnova sono leggerissimi. Plaid Pile a 2,90€, Accappatoio Spugna Caleffi a 17,90€, Completo Flanella a 2 posti 18,90€, Trapunta a 2 posti 29,90€, Scaldaletto Imet e Composto 45,90€. Inoltre corredi neonati, biancheria, intimo e tessuti arredamento. Texnova ti aspetta a Lunata Lucca, vicino all'Esselunga.